In Natale si sta avvicinando qualche simpatica idea regalo potremo darvela anche noi con i prodotti still a basso costo ma estremamente utili. Possiamo proporvi il mini potatore, il soffiatore, il rifinitore e l'aspiratore. Questo mix di prodotti sicuramente potrebbe accontentare sia la moglie che il marito, sia il figlio che la figlia o il nonno e la nonna, vedete voi. Per maggiori informazioni cliccate nel link in descrizione e a questo punto buon regalo. Ciao a tutti!